Buongiorno, da Rocca Calascio, in Abruzzo. Quando un nuovo giocatore entra a far parte degli All Blacks, la mitica squadra di rugby della Nuova Zelanda, succede un piccolo prezioso rituale. Gli viene consegnato un libricino in pelle. La prima metà è piena di fotografie, di coppa, la storia di questa incredibile cultura. E la seconda metà di questo libricino, invece, sono pagine bianche che quel giocatore riempirà, scrivendo il suo contributo per la squadra, le sue esperienze, le competenze che ha sviluppato e tutto quello che ha maturato nella sua carriera. E' un piccolo rituale che, insieme ad altri, rende gli All Blacks una squadra unica al mondo. Ora, immagina nella tua squadra, nella tua azienda, nel tuo gruppo, ci sono dei rituali che rendono il tuo gruppo davvero unico, coeso, che contribuiscono al senso di appartenenza. Il 25 gennaio parte un seminario davvero unico. Salesforce, il primo corso di questo straordinario percorso di Evolution Forum, che si chiama Squadra Vincente, dove vedremo 21 azioni tradotte nel mondo del business per essere più performanti. Da Emanuele Maria Sacchi, dal Gran Sasso, a presto.